Due giovani, una donna e un manager. I nuovi assessori nominati dal sindaco di Recco Virginio Brivio a un anno e mezzo dalla fine del secondo mandato riportano nuove la squadra a suo fianco al governo della città, orfana da settembre 2017, dal dimissionario Stefano Ghezza. La sua delega allo sport è stata affidata a Roberto Nigriello, giovane consigliere comunale del PD, laureando in giurisprudenza, da sempre in prima linea nei rapporti con le associazioni sportive della nostra città. All'istruzione Brivio ha promosso Clara Fusi, tecnico dell'istituto La Nostra Famiglia, già in consiglio comunale nei banchi del PD. L'imprenditore Lorenzo Goretti sostituirà al bilancio Anna Mazzoleni, fondatore della GR Informatica, classe 1952. Goretti era candidato alle ultime elezioni per la lista civica appello per l'ECCO. Nessun esponente della lista Vivere l'ECCO, quarta gamba della coalizione che nel 2015 portò a Brivio la vittoria, sostituirà Ezio Venturini, la delega all'ambiente ora in capo Alessio Dossi, trentenne già presidente provinciale di Liga Ambiente, senza una tessera di partito in tasca.